Sì, per me la partita siamo partiti molto bene, dopo 10-15 minuti l'avversario ci ha preso un po' di campo, ci siamo un po' impauriti su due o tre imbucate che ci hanno fatto e hanno avuto le loro occasioni. Secondo tempo per me siamo rimessi a posto, abbiamo ritrovato un po' le distanze e i tempi d'uscita e per me abbiamo fatto bene, poi dopo anche chi è entrato ha fatto bene, perciò sono contento. Abbiamo tanti giocatori in ritardo di condizione per me, noi avevamo chiesto di inviare la prima partita, parla più tardi perché abbiamo iniziato dopo gli altri, veniamo da una finale pre-off persa e perciò sapevamo che eravamo in ritardo, adesso se tutti parlano, dicono sempre, tante parole, a me non mi prega niente. Ho una personalità e diciamo nella mia vita ho fatto calcio abbastanza, per questa roba mi fa zero. Perciò vado avanti e la squadra è tosta, riprenderà lo spirito quando staremo bene tutti, perché in questo momento abbiamo tanti giocatori, ho fatto giocare gente che ha fatto due allenamenti con noi, è in ritardo, gente che rientrava da infortuni come Saldi, che era al limite ma ha giocato, Marcus che sta rientrando, Delia che piano piano si sta riprendendo, abbiamo davanti Novakovic che ha 20-30 minuti di partita perché è stato fermo dall'anno scorso, i giocatori che sono arrivati devono mettersi a posto, gli infortunati, perciò per me ci fa bene, abbiamo più tempo per ritrovare lo spirito nostro, quello che ci ha portato a fare una finale pre-off e giocarci in quel modo l'anno scorso, io sono sicuro che ci fa bene e sono sicuro che questa squadra alla fine farà sempre un campionato importante, perché la squadra è forte.